Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video prima di iniziare vi ricordo lasciare un mi piace e iniziarci a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo in questo video ne andremo a parlare della situazione meteorologica dei prossimi giorni proprio perchè la situazione è molto molto interessante inizio marzo che ha avuto inizio ma andiamo a vedere come andrà a evolversi la faccenda come possiamo vedere soprattutto sulle regioni del centro nord persisterà aria anche molto fresca soprattutto sulle regioni del Valpadana ma attenzione perchè anche sulle regioni tireniche avremo temperature comunque nella media stagionale o forse anche qualche grado di sotto ma ci sarebbe un cambiamento molto importante il primo verso il 5-6 quando a causa del promontore d'alta pressione dell'Azoria che si andrà a spostare verso l'Islanda e la Gorillandia favorirà una discesa d'aria molto generale di origine artica che scendendo richiamato in 2 minuti pressionari verso il 7-8 potrebbe scettarsi verso proprio la nostra penisola il giorno molto molto intenso potrebbe portare sul resto d'Europa sul nostro Italia saremo anche abbastanza protetti dalle Alpi ma comunque freddo fino anche a termiche di meno 8 gradi raggiungeranno le regioni centro-settentrionali attenzione anche alle termiche soprattutto sulle Alpi dove qua già a 1500 metri potremmo trovare termiche fino a meno 15 freddo comunque molto intenso che si troverà anche sulla sulle regioni adriatiche e tireniche fino nel Lazio aria fredda che poi si sposterà verso i Balcani lasciando l'Italia in una fase d'aria fredda attenzione perché poi potrebbe aprirsi veramente la porta atlantica proprio perché a partire dal 10 stando le ultime emissioni potrebbe esserci una nuova perturbazione un nuovo richiamo ad aria fredda che porterebbe freddo nuovamente fin in Sicilia aria invece molto umida potrebbe trovarsi fino in Islanda e in Gran Bretagna e una prima vampata d'aria calda potrebbe raggiungere anche la Turchia questa ovviamente rimane una tendenza a lungo termine ma per ora queste sono le linee insomma un inverno che non ha niente da dire in questo momento ma che potrebbe riaccendersi soprattutto a partire verso il 4 ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale lasciando un mi piace e iniziarci a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo